Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica ci propone un incontro intenso, quello tra Gesù e la donna Cananea, una maestra di fede che ci insegna, tra l'altro, cosa è che vince il cuore di Dio, l'umiltà. Questo Vangelo ci offre anche la possibilità di fare un viaggio nel nostro cuore, scandito in quattro tappe, la ricerca di Dio nella sofferenza, lo sperimentarne anche il silenzio, saper accogliere anche i suoi no per arrivare all'umiltà del cuore. Gesù, rifiutato dai capi religiosi, si ritira verso la costa fenicia, oltrepassando i confini giudaici per recarsi in terra straniera. Una donna esce da quella regione pagana e va verso Gesù. Abbiamo qui un movimento anche simbolico, rappresenta i pagani che verranno a Gesù e continuano a venire a Gesù, cioè tutte quelle persone di altri popoli, altre culture, altre religioni o comunque non cresciute in un ambiente credente. Qui abbiamo una donna, una mamma, che lo supplica accuratamente, ripetutamente, dicendo, pietà di me signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Quanta gente, ieri come oggi, cerca il Signore, stremata, affaticata, sofferente. Quanti genitori anche oggi hanno figli distrutti o che si stanno lasciando rovinare dal male, magari non in modo così evidente come una possessione, ma che soffrono terribilmente vivendo confusi, nel disordine, pieni di menzogne nella testa, dispersi in cose inutili o dissipati in dipendenze più o meno larvate. Eccomi cari, questa donna cerca il Signore proprio nella sofferenza di sua figlia, proprio lì dove incontra un male invincibile con le proprie sole forze. Proprio lì capisce che tutto il suo vissuto, tutta la sua cultura e le sue tradizioni religiose non bastano, solo il Dio vivo e vero può salvarla. E quante volte è così anche nella nostra vita. Finché pensiamo di farcela con le nostre sole forze, finché tutto ci sembra più o meno sotto controllo, spesso Dio lo mettiamo alla porta. Tante volte l'inganno dell'autosufficienza crolla quando incontri il male, in un modo o in un altro, nella tua vita. Quando ti rendi conto che una persona a te cara soffre e tu davanti a quella sofferenza, davanti al male che attanaglia la vita di quella persona o la tua, non puoi nulla. Ecco allora che andiamo a Gesù. Ma ecco il nostro passaggio successivo, il nostro secondo punto, il silenzio di Dio. La reazione di Gesù è apparentemente anomala, Gesù non le risponde nemmeno. È interessante notare che la donna non demorde. Mie cari, perché a volte Dio tace o sembra tacere. Come ha detto bene il cardinale Comastri, il silenzio di Dio non è indifferenza, è lo strumento che Dio usa per verificare i sentimenti dell'uomo e per creare le giuste disposizioni del cuore. A volte il silenzio di Dio aiuta a purificare il cuore, il nostro amore, a purificare il nostro desiderio o ad intensificarlo. Noi ci accontenteremo di risposte rapide o di soluzioni immediate. Dio no, Dio non ha fretta, vuole aiutarci a crescere sul serio. Allora cosa succede? Che tante volte proprio in quel silenzio il desiderio si intensifica o si purifica. A volte l'oggetto della preghiera si eleva. E allora ecco che magari all'inizio pregavi perché il Signore ti togliesse un problema. La situazione invece non è cambiata, ma ecco che pian piano è iniziato a cambiare il tuo cuore e inizi a non chiedergli più che ti tolga quel problema, ma che ti dia la forza di affrontarlo, che non ti lasci. Ecco, l'essere rimasto ancorato a Dio ti porta a scoprire qualcosa di più grande della mera risoluzione del problema. E così Egli ti può dare molto di più di quello che inizialmente avevi chiesto. Ma ecco il nostro passaggio successivo, accogliere anche i no, che a volte il Signore ci dice. La donna insiste e i discepoli sembrano più generosi di Gesù. Esaudiscila, non vedi che ci segue? In realtà loro vorrebbero togliersi il fastidio. Versione genitore che di fronte ai capricci del figlio cede pur di farlo tacere. Ma vedete Gesù non è un buonista, è buono. Dona ciò che serve e quando veramente serve. Ora, cosa risponde Gesù? Gesù motiva il suo silenzio, il suo rifiuto, dicendo che non è stato inviato che per le pecore perdute della casa di Israele. Dunque il suo iniziale di niego non è una mancanza di carità, ma fedeltà alla volontà del padre e al suo mandato. Vedete, miei cari, dobbiamo essere realisti. Dio ci ascolta sempre, ma non ci esaudisce sempre. Perché Dio non è un distributore automatico che ti dà tutto quello che desideri, è un padre che ti dà il meglio, che mira alla tua crescita. Ricordo simpaticamente una bambina che alle scuole elementari, prima di pranzare, faceva sempre il segno della croce. E una maestra stupita un giorno le chiese. Ma tu preghi sempre? Sì, a casa preghiamo sempre. Ah, e dimmi, Dio ti ascolta sempre? Sì. E ti esaudisce sempre? No. E come fai? Chiese la maestra. È come il mio papà, disse la bambina. A volte gli chiedo una cosa e lui semplicemente mi dice no, ma io so che lui mi vuole tanto bene e lo fa per il mio bene. Ora, la fede ti porta a credere che se Dio non ti dà quello che chiedi, forse non è ancora il tempo debito e dunque c'è da insistere. O forse è perché vuol darti molto di più e ti sta conducendo verso qualcosa di molto più grande, perché lui ti ama molto più di quanto puoi amarti tu e vede più lontano di te. Ed eccoci al culmine del nostro percorso, l'umiltà del cuore. Questa mamma coraggiosa non si rassegna e insiste nel chiedere aiuto, certa che non può non essere ascoltata. E Gesù le risponde con una frase tipica del tempo, mitigata nella sua durezza. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Nella concezione ebraica i figli sono i discendenti di Abramo, facenti parte dunque del popolo eletto. I cani sono i pagani, gli stranieri. Dunque Gesù non la sta insultando, continua a motivare il suo no dovuto a un fatto di giustizia. A questo punto noi che avremmo fatto probabilmente ce ne saremmo andati, scandalizzati, offesi, forse ci sentiamo anche ora un po' infastiditi. La cananea invece no, perché lei è veramente umile e ci insegna la giusta posizione nella quale stare davanti a Dio. Lei dice, è vero signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Come a dire, è vero signore, io non sono figlia del popolo eletto, provengo da una storia di idolatria, non mi è dovuto nulla, non merito nulla. Ma so che un po' di grazia ci può essere anche per me, so che un posticino nel tuo cuore c'è anche per me, so che una briciola di misericordia ci può essere anche per mia figlia. Se i cagnolini trovano misericordia dai loro padroni, che gettano giù qualche briciolina, non dovrei trovarne io dal mio signore? È quest'umiltà che fa tripudiare di gioia Gesù, che le rivolge un complimento enorme. Donna, davvero grande la tua fede, avvenga per te come desideri, perché hai capito che il mio desiderio coincide con il tuo, la liberazione di tua figlia, il vero bene di tua figlia. La fede di questa donna è grande e lei ha capito il cuore di Dio meglio di tanti altri, discepoli compresi. Egli è un padre che ha a cuore tutti e vuole dare a tutti il pane della salvezza e vuol fare di tutti noi suoi figli. Vedete, miei cari, l'esperienza di questa donna ci dona delle coordinate per fare un salto di qualità, cercarlo sempre anche nella sofferenza, insistere anche nei suoi momenti di silenzio, reale o apparente, lasciando purificare o intensificare il nostro desiderio. Saper accogliere anche i suoi no e metterci davanti a lui in umiltà, come questa donna, che sa di non poter accampare alcun merito, ma è certa della sua bontà, è certa che Dio non può non ascoltare la supplica di una mamma e avere a cuore il vero bene di sua figlia. Nella preghiera noi dobbiamo sempre ricordare di essere questo povero che non merita nulla, ma che tutto ciò che ha è grazia e tutto ciò che chiede è una grazia che può ottenere soltanto per quell'infinita misericordia, per quella sconfinata tenerezza che Dio ha per lui. Spesso per arrivare a stare davanti a Dio con l'umiltà di questa donna è necessario un lungo cammino dove i nostri migliori maestri sono i nostri fallimenti e quando veniamo azzerati dalle nostre cadute, atterrati dai nostri peccati, che l'umiltà può crescere. È proprio lì, quando ci sembra di toccare il fondo, quando ci rendiamo conto un po' meglio della nostra miseria, che la misericordia di Dio ci può salvare, pacificandoci, rendendoci più misericordiosi. Vedete, noi a volte partiamo da un rapporto con Dio estremamente superficiale, diamo tutto per scontato, come se tutto ci fosse dovuto, o facciamo delle preghiere che più che preghiere sembrano pretese. Poi, man mano, lavorati ai fianchi dalla sofferenza, le nostre pretese iniziano a diventare richieste. E man mano, lavorati ai fianchi dalla nostra sofferenza e dalle nostre cadute, le nostre richieste diventano suppliche. E man mano veniamo così condotti all'umiltà, alla nostra verità, riconoscendoci poveri, salvati per grazia. E possiamo scoprire, come diceva San Bernardo, che Dio non ci ama perché siamo buoni, ma Dio ci ama, perciò ci rende buoni. Cari fratelli e sorelle, che il Signore possa donarci la fede di questa donna cananea, la cui umiltà ha vinto persino il cuore di Dio. Beati noi, se sapremo stare davanti a Dio come dei poveri, come dei mendicanti, che attendono tutto come un dono, sapendo che Dio non è obbligato a dirci di sì, ma che per sua misericordia tutto ciò che è il nostro vero bene, Egli ce lo concederà. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!